Salve a tutti carissimi amici, Manuel Nuska con voi quest'oggi da Trani presso la nuova sede dell'Università LUM per la conferenza informativa dell'apertura dello Spaceship Institute della Keshe Foundation. Vediamo cosa dicono i partecipanti e i knowledge seeker. Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti i nostri amici. Sono il coordinatore della fondazione Keshe in Italia e sto cercando di supportare il dottor Keshe in questa impresa che lancerà l'Italia e il mondo in una nuova era. Il mio nome è Eric Claussen. Vengo da Deutschland, da Germania. Vengo qui alla Keshe Foundation per aiutare le persone con le nuove tecnologie. e lo apportare un po' che ho trovato che funziona molto bene. Grazie a tutti. 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 e anche senza pensare se è una buona idea o non ho cercato di partecipare e, come sempre diciamo, essere parte di qualcosa che non era la mia realtà, era solo qualcosa di scendere. E ora ho fatto un passo per arrivare e vedere se mi sono ancora dietro. Buongiorno, mi chiamo Mike Harris, sono qui da U.S. E perché sei qui? Perché sei qui? Sono qui per studiare e valutare le tecnologie che sono stato presentato da Mr. Keshe. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Mi chiamo Rick Crammond, da SOUC in Canada, e sono qui perché sono pronti a fare cambiamenti in il mondo e aiutare a partecipare in quei cambiamenti. che sono stato presentato. E sono molto felice di essere parte della Keshe fondazione e questa grande, 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 grande differenza che ciò 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 ciò. Grazie mille. Mi chiamo Evans Abelard, sono originale da Montreal, lavoro in Cina, Shenzhen, e sono qui per attendere la Keshe fondazione di un'opera università di università e per incontrare alcuni grandi persone. Grazie mille. Ciao, chi sei, che fai e perché sei oggi qui? Io sono Luca, Luca Lucci. Io cerco la verità sostanzialmente. E oggi sono qua per approfondire un po' certe questioni per poter andare avanti. Sono qua da alcuni giorni e è un'esperienza costruttiva sicuramente. Mi chiamo Zhang Hui. Mi chiamo Zhang Hui. Mr. Keshe like call me Mr. Hui. Mi chiamo di China. I love Keshe technology. So I... So I'm here in Italy. I'm very glad to have all the friends to learn the Keshe technology. I'm very grateful to the Keshe先生 and the Keshe team. Thank you very much. And I'm here as a part of this group who is organizing this event here, the official opening of the Keshe Foundation Institute here in Viltrani. And... That's it. That's it. That's it. Thank you. Thank you. Hi. My name is Kevan Davani. I'm from Vienna, Austria. Originally I'm from Iran. But I grew up in Austria in the United States. I'm originally from my background. I'm a PhD in Law, in Product Liability. But for many years now I've been following from a scientific point of view Mr. Keshe and the teachings, the science and technology, the plasma, maGraph, GANS, nanotechnology of the Keshe Foundation in connection with the Spaceship Institute and the University in Italy now. And I'm a co-host of the Kids Knowledge Seekers Workshops with Rick Crayman and Mr. Keshe and interested parents with their kids. And this is what I intend to do and to further promote the transfer, the very fast transfer of knowledge, not only to the general population, to scientists or to students, but most of all and most importantly to the kids which are already in school or which are about going to school to learn the mainstream conventional subjects such as physics, chemistry, biology because before that comes plasma technology and science. Thank you. Thank you. Hello. My name is Armen Gulayan and I'm from the United States of America. And I'm a knowledge seeker in Spaceship Institute. My name is Elia. I'm from Bulgaria. and we're here to celebrate the opening the SSI Institute of Keshe Foundation. My name is Dirk Lauresens. I'm from Belgium. I'm an inventor. And I worked together for many years from 2005 together with Megran Keshe. and I'm very happy to be here for this occasion because it's important that the technology of Keshe is spread over the internet, over the whole world, because it's a very positive for humanity and I'm very proud to know Keshe. Hello. I'm Nadine. I'm here at the inauguration of the Space Ship Institute at Trani. I'm very happy because it's a fundamental thing for all the humanity because finally the science of medicine, of technology, of energy, of transport and especially the spirituality they finally meet. My name is Vincent Roncalio. I'm from Lethbridge, Alberta, Canada and I am here on behalf of the Keshe Foundation as the Keshe Foundation supporter. I am a knowledge seeker by heart and I love to spread the knowledge that comes from the Keshe Foundation. Thank you. A simple question. Hi, who are you? What are you doing? And why are you here today? No. No, I'll do it later.